Ciao a tutti e benvenuti al canale! Oggi vi presento un altro video dettato. Io vi presento un pezzettino del film che voi dovete scrivere come dettato nei commenti sotto questo video. Stavolta si tratta di un piccolissimo dialogo fra le due signore. Il frammento è del film che si chiama Любовь и голуби, amore e piccioni. Ascoltatelo attentamente e scrivete per favore nei commenti quello che riuscirete a distinguere. E' un color naturale! Bene, adesso dopo che l'avete sentito, spero che sia tutto chiaro, aspetto le vostre versioni. Naturalmente se ci sarà un numero sufficiente dei commenti, e cioè almeno 7, io pubblicherò dopo qualche giorno, 2-3 giorni, in base a quanto sarete attivi, pubblicherò la video risposta e spiegherò tutto quello che hanno detto e perché hanno detto proprio così. Спасибо за внимание! Aspetto i commenti! Un abbraccio! Пока! Ciao!